Ciao amici benvenuti in questo nuovo video, come avete visto è dedicato a tre persone, a Giulia, analizzami, che saluto calorosamente, ciao tesoro mi manchi, è dedicato alla gnoma, un po' per lo stesso motivo di Giulia, è dedicato a mio amico Curoteo, perché è dedicato a queste tre persone? Beh a Giulia e Laura è dedicato perché loro sono manieche dell'ordine, mi rompono sempre le scatole che devo tenere la camera in ordine, soprattutto Laura è sempre stata preoccupata per la mia testa, per via dei troppi fumetti sul ponte qua, e dedicato a Curoteo, perché questo video è fatto apposta per lui, perché possa reactarlo in live con un video su YouTube, quello che... Quindi lo scopo del video è farvi vedere la camera, che è appena stata diciamo più o meno rifatta, con dei mobili nuovi, ho cambiato la schivania, per poter avere più spazio, per sistemare tutte le cose che c'avevo qui dentro, direi di cominciare subito con questo tour, ma prima una cosa molto importante. Ciao amicina, ciao piccola piccolina. Che paciuchina che sei mentre fai la nanna. a ho a Allora per cominciare chi si ricorda come era messa il mio ponte qua c'era veramente troppa roba E era abbastanza precario come potete vedere qua ci sono dei punti che lasciano un po' a desiderare Ma andiamo con ordine Qui quindi abbiamo la nuova scrivania che mi consente di avere molto più spazio per gestire gli schermi Non li devo spostare da una sola parte, ho imboscato la playstation lì dietro, il giradischio l'ho messo qui sopra Ho tirato via il mobile che avevo lì nell'angolo appunto per poter fare questa pivania ad L diciamo Questa comodina che ho infilato lì sotto con lo stereo che poi attaccherò al giradischio Ho creato così la mia postazione per poter lavorare in pace, per farmi gli affari miei in pace Computer lì, gli schermi, la soundbar lì sotto, la switch, tastiera che poi prima o poi cambierò Ne prenderò una posta per il Mac E qui ovviamente il mio televisore È un caso che ci siano i Paramore Cruteo? Non lo so, dimmelo tu Lasciamo stare ovviamente il cable management lì sotto perché è estremamente terribile E non mi sono minimamente interessato a sistemarlo perché senza canaline non avrei nemmeno saputo come fare Per il momento va bene così Passiamo ora al ponte e a tutto quello che c'è intorno Di cose rilevanti Allora sul ponte l'abbiamo riempito di fumetti Partendo dall'alto abbiamo Lady Oscar C'è la perfect edition di Dragon Ball, la Akira, qualche volume boh speciale dell'attacco dei giganti Il cofanetto di Helsing Questo mini Gundam comprato in un combini a Tokyo una sera che avevo bevuto troppo sake Poi qui abbiamo dei plettri speciali degli Alter Bridge Che mi avevano dato con un deep pack una volta E in questo pacchetto di Winston Tutti i plettri che ho raccolto ai concerti Metallica Tremonti The Verallon? Ah ma mia Altri Metallica a Bologna con la Torre degli Asinelli Wow Lamb of God Day to remember Alter Bridge ancora Alter Bridge Michele Luppi N.000 N.000 E anche bacchette per i concerti Questa è sempre stata E' sempre degli Alter Bridge Scott Phillips me l'aveva dato in mano alla fine concerto Perché al meet and greet gli avevo talmente tanto roti i coglioni Dicendogli guarda che questa è la decima volta che mi vengo a vedere Regalami la bacchetta a fine concerto Sarò in prima fila a urlare come un pirla E così è stato Bacchetta dei Blackstone Cherry Che mi ha aperto la mano quando l'ho presa Perché come vedete era rotta E questo era un altro frammento di una bacchetta degli Alter Bridge Che mi ha dato un mio amico a fine concerto Passando oltre qui abbiamo La vecchia guida di Pokémon bianco e nero Un Dilan Dog Il libro di Marco Simoncelli Diario di un ingessato Il libro che aveva fatto un mio amico Di Troiate che scriveva su Facebook Quando è rimasto bloccato a casa per via del gesso E l'ho raccolto il mio libro Il libro dei mostri di Tazel Wurm Che ha anche una dedica speciale Con un animale infernale Poi abbiamo la Omnibus di Devilman Che non ha bisogno di presentazioni E una serie di 45 giri Quasi tutti di Morbuto Più lo speciale Evan Schalber Trinium Limitato Norwegian Reggaeton Con dall'altra parte Bessie di Seitan E Arthur Stings to Find the Bullet for My Valentine Con dall'altra parte la cover di No Easy Way Out Di Robert Tepper Da Rocky Bellissimo Bellissimo Dovendo con l'area fumetti Abbiamo la zona Shaman King Dove cominciamo con i due volumi di Shaman King Zero Poi proseguiamo con la Perfect Edition di Shaman King In formato Kanzeban E la ultima edizione di Shaman King Flowers Quest'angolo piacerà tanto alla nostra amica Marta Delle Jap Cult Dopodiché c'è l'angolo Full Metal Alchemist Tutta la nuova Deluxe Edition In mezzo c'è un segnalibro perché lo sto leggendo e sono arrivato al volume 11 Con il volume commemorativo dei vent'anni Full Metal Alchemist E la Limited in Steelbook E l'orologino comprato per due soldi su Amazonia Qua abbiamo un misto di tutti i cioppini che ho comprato in ferie Più gli inviti ai matrimoni a cui sono stato Smettetela di sposarvi Mannaggia i preti Un Dartrix che viene dal Pokémon Center della Tokyo Tower Abbiamo un arco giapponese che viene dal Fujimi Nari di Kyoto Un Daruma che viene sempre dal Giappone ma non mi ricordo da dove E questo piccolo souvenir del Peru Che viene appunto dal Peru Dalla quale ho preso ispirazione anche per il tatuaggio sul mio braccio destro Dopodiché al piano di sotto abbiamo tutta la distesa di One Piece Dei quali ne mancano circa 25 mi sembra Con alla fine NAN Un saluto a Michele Mari che lo apprezza particolarmente Le cioccolane prese agli studios di Harry Potter a Londra Assieme al passaporto di Harry Potter che la mi hanno dato Caramelle di coca prese in Peru Poi vorrei fare presente sono tipo 99% zucchero una cosa del genere E un filo di foglia di coca Fanno cagare Poi qua c'è i fazzoletti di Elio e le storie tese Che hanno regalato al Forum di Milano Il 19-12-2017 Quando fecero il loro concerto di addio Ai quali ho avuto la fortuna di partecipare I fazzoletti di Frozen fondamentali I biglietti dei concerti a cui ho partecipato Ma non sono ovviamente tutti Perché consideriamo anche tutti i biglietti Quelli online e non fisici Qualche braccialetto dei pit in cui sono stato Firenze Rocky Metallica Gli Slipknot Quest'anno Qua ho tessere della metro dal mondo Madrid La tappa è di Los Angeles Smart Trip dovrebbe essere Washington DC E poi la Suica di Tokyo Ovviamente Con il suo bel pinguino Mentre qui sulla colonna Cominciamo con l'angolo vinili Abbiamo gli Alter Bridge Abbiamo i Black Sun Cherry La colonna sonora di Cowboy Bebop Poi ci sono tutti i dischi di Murubutu Key Switch and Gage Tra cui una versione ultra limitata Limitata di End of Arctic Vinile picture tipo 2000 nel mondo 5000 una roba del genere Le due super limited deluxe edition Dei ventennali di Hybrid Theory e Meteora Dei Linkin Park Che sono incredibili Soprattutto quella di Hybrid Theory Molto molto bella I vinili dei Nano World of Steel E i Polygon totalmente a caso E poi tutti i vinili dei Trivium Dal box AB inizio di Ember to Inferno Tutti gli album A parte Vengeance Fall Che è introvabile Mannaggia vu Qui abbiamo le due guide di Zelda Breath of the Wild E Tears of the Kingdom Qua un po' di carte Pokémon Qua roba vecchia E questo un vecchissimo poster Dei Gen Boy Di probabilmente vent'anni fa Vecchissimi concerti che facevano Dove erano ancora i Gen Boy Che ci piacevano Costandoci qui sotto Abbiamo un po' di giochini Per Nintendo DS Tutto Pokémon praticamente A parte Ocarina of Time E questo Una edizione limitata Di One Piece Unlimited Cruise SP Con la statuetta di Ace Se qualcuno volesse acquistarla Mi mandi un messaggino Ecco la videocassetta di Space Jam È una cosa di cui vado Particolarmente fiero Doppia videocassetta Perché c'erano anche Delle puntate A random Dei Looney Tunes Vediamo un attimo Alla veloce Anche quello che c'è Sopra al ponte Ci sono un po' di Lego Un po' di Funko Pop Vediamo R2D2 Piccolo Grogu Funko Pop di Voldemort Marty McFly E Doc Brown I tre modellini Delle tre DeLorean Di Ritorno al Futuro Il cofanetto In edizione super limitata Flusso canalizzatore Con i Blu-ray Di Ritorno al Futuro Una Coca-Cola Condividi a Coca-Cola Con Thor E altre varie cazzate Qui dentro c'è Dentro questa scatola C'è un kit Da sake Altri Lego E il poster di One Piece Preso dall'edizione limitata I volumi 98 Poi abbiamo anche Un bel narghile Che mi era stato portato All'Egitto Da mia cugina Molto bello Ma Meno da me Non verrà mai più Utilizzato Ora ci spostiamo Verso i mobili nuovi Non prima di aver dato Un'occhiata veloce Qua Alla mia anzianità Poster del raduno Di Ritorno al Futuro Del Cinema Vittoria Di non so quanti anni fa Poster del Dump Green Coffee Shop di Amsterdam Che ho portato a casa Nel 2012 Poster di Tiesto Del 2010 Di quando sono andati Ibiza Serata della Madonna Adesivo del Biker Raft Adesivo di Michele Mari Altro adesivo di Michele Mari Braccialetti del Pit Del Firenze Rock 2008 Buonasera My Friend Nerdosterone Amici Serata Diabolica Villa Fredo Di Modena Nel 2006 Mamma mia che ricordi Ovviamente il poster di Super Mario Che al cinema Subito la cassiera Non mi voleva dare Perché diceva Eh ma è solo per i bambini Ma io ti prendo a calci Ora via con il Callax Quindi i due Callax Perché sono 6 più 2 Dal basso Dove ho riempito Un po' di cose varie Dentro questi due scatole Dentro gli sportelli Qui cose a caso Qui abbiamo il Cubotto Playstation Con i giochini che ho E il joystick Qua cose a caso Tra cui i miei orologi Tutti i G-Shock A parte uno Che mi è stato regalato Un Braille molto bello Che non metterò mai Perché si è rotto troppe volte Qua l'angolo Nintendo Con joystick Nintendo 64 Per Nintendo Switch Joystick Pro Per Nintendo Switch Il joystick a Sfera Poké Di Pokémon Let's Go I giochi della Nintendo Switch Un New Nintendo 3DS E un Nintendo DS Lite Che è rotto Collezione di cofanetti Signore degli anelli In versione estesa Lobby in versione estesa Cofanetto Digimon Anverto 3 Che ho riguardato poco tempo fa Molto carino Cofanetto di Harry Potter Un saluto a David Yates Che ha tagliato Tutti i ricordi Di Moldemort Mannaggia a te La trilogia di Matrix Che vi ricordo Sono 3 film Non esiste un quarto Il cofanetto Che raccoglie I film degli Avengers Il cofanetto Con tutti i film di Dragon Ball Fino alla fine di Dragon Ball GT E Ready Player One Che è sempre molto molto bellino Menzioni d'onore Per il punto croce Fatti da Lucia Quel tossico di Dodò E The Last of Us Lucia quando vorrei dare La seconda stagione Mamma mia che roba E adesso passiamo Al Billy Che ho comprato ieri E ho montato stamattina Come avete visto Nel bellissimo timelapse Vediamo cosa ci ho messo Che prima era sopra Il ponte E stava per crollare Cominciando dal basso Abbiamo la DeLorean Lego Di Back to the Future Da montare Ovviamente E abbiamo anche L'Owars Express Da montare Con la stazioncina Questo me l'ha regalato la Giada Cazzata come una bestia Perché non l'ho ancora montato Hai ragione Giada Prima o poi lo faccio Davvero Promesso Poi andando in su Cominciamo un po' Con roba a caso Quindi abbiamo Roba americana Il fubetto degli Alter Bridge Che è arrivato Con una versione speciale C'era anche Il primo album in vinile Che non era mai stato fatto Cose del genere Le Absolute Di V per Vendetta E The Killing Joke Poi abbiamo Watchmen Batman Il ritorno del Cavaliere Oscuro Capolavoro Assoluto Due Powerbomb Di Daniel Warren Johnson Bellissimo Qui abbiamo Undiscovered Poi abbiamo La profezia dell'armadillo Di Zero Calcare Due volumi di Shonen Jump Che ho preso Quando sono stato In Giappone Nel 2017 Sono in uno C'è One Piece tra l'altro E mannaggia ho delle pause Poi abbiamo Il volume del trentennale Di Dragon Ball In giapponese Artbook Un sacco di robe Ricordatevi sempre Che quando comprate Roba giapponese Potete tranquillamente Comprarla su Amazon JP E non utilizzare Altri siti Che vi raddoppiano I prezzi Senza motivo Poi Due color work Di One Piece Prima o poi Recupererò anche Tutte le altre La limite Del volume 100 Di One Piece E la limite Del volume 1 Dei Cavaliere di Zoro Zodiaco Con la copertina Disegnata Da Zero Calcare Spostandoci Più in alto Abbiamo Le novel I due volumi Della novel di Ace La novel di Lowe Il volume Commemorativo Dei vent'anni Full Metal Ichemist Giapponese E il volume 1 Della Perfect Edition Di Dragon Ball In giapponese Anche questo Comprato direttamente In giappone Poi abbiamo Sanpei Sanpei Del quale ho letto Tre volumi Prima o poi Andrò avanti Con gli altri Che ragazzi Leggete Sanpei Perché è bellissimo Santo cielo Poi abbiamo Per l'Eternal Edition Di Sailor Moon Non sono ancora riuscito A trovare il volume 1 Se qualcuno ce l'ha E me lo vuole Vendere a un prezzo Non da strozzino Mi mandi un messaggino Andando al piano di sopra Abbiamo Dimo Slave Ragazzi Anche questo è veramente Veramente bello E per questo saluto E faccio gli auguri Al mio amico Ricky Anche lui Grande appassionato Lost Canvas Cavaliere dello Zodiaco Storia bellissima Questo anche Il volume Con storielline extra La serie originale Di Cavaliere dello Zodiaco Che sta uscendo adesso Per Star Comics Nella nuova versione Veramente Veramente Molto Molto Bellina La versione I disegni Come sapete Sono quelli che sono E poi ovviamente Dada Adventure Signori Dada Adventure Fino al volume 7 Con volume speciale Annesso Leggete Dada Adventure Sopportate Leo E Alle Perché questo È un lavoro Della madonna È un lavoro Incredibile È un fumetto Che non può Non piacervi Se non vi piace È perché non l'avete letto Poi abbiamo I tre volumi Di Trigan Nella vecchia versione Della Dynit Che anche questo Devo finire di leggere Adoro questa versione Molto più Di quelle nuove Poi Trigan Maximum Della Panini Quello ma Quella è una storia Che viene dopo Proseguendo qua Abbiamo la nuova Come si suol dire Porno luso di Dragon Ball Cartonata di Star Comics Fino al volume 16 Il volume 17 Uscirà Boh Fra un paio di settimane Rispetto a quando Sto registrando Mai nella vita Ci starà tutto In questo ripiano Quindi poi Troverò un'altra soluzione Mentre andiamo Qui sopra Allora abbiamo Due volumetti Giapponesi Degli speciali Relativi Al film Red E al film Z Di One Piece A seguire Ci sono Tutti i volumi Extra Che sono usciti Negli anni Red Wanted Blue Yellow Green Blue Deep Poi dopo abbiamo Il volume 1 Gold E il volume 1 Silver Di One Piece Commemorativi Usciti Mi sembra 7 anni fa Il Gold era quello che c'era solo a Luca Comics Il Silver si trovava nelle fumetterie Poi Il 98 e 99 di One Piece Invariant Usciti Due anni fa Ormai I One Piece Journal E gli altri volumi Fatti Dal Re Dal Biker Raph Da Somovuta Su One Piece L'anime comics Di Strong World Film di One Piece Che io ho adorato Poi ho Questi volumi Il volume 1 Il volume sul film Z Il volume sul film Gold Il volume 1 Di Dragon Ball Super E il volume 1 Di Helsinki In giapponese Anche questi li avevo comprati Quando ero stato in Giappone Sono ancora in Ciorfanati Non li ho mai aperti La vecchia edizione di Dada Ovviamente Se e dovete Comprare Dada Non comprate questa Ma comprate questa Di edizione BD Mi raccomando L'Attacco dei Giganti Anche qui ce ne mancano un po' Come vedete Dal 16 al 32 Mancano Recupererò anche quelli Prima o poi E in fondo L'anime comics di Your Name Che più che altro è messo lì Per tenere su Tutta la barca Ovviamente Il Wall of Glory Qui con Il calendario Della mostra regionale Della capra aerobica Di Casargo Al quale Il Biker Raphs Presenzierà pure quest'anno Il grande poster Del Timoniere Ovviamente Italo Veru Crocus di Masterchef Il vero traditore Miglior personaggio di One Piece E colui che brandisce Il potere Il sommo potere Poi i progetti Della DeLore Anche che questi Mi hanno stati adatti Al Cinema Vittoria In un evento speciale E la cartina che gratto Con i paesi Dove sono stato Quindi questo signori È la mia cameretta Al momento Aggiornata Con i nuovi acquisti Di forniture Con tutta la roba che ho Potrebbe essere più in ordine Perché qua c'è ancora Parecchio casino So che Laura Lo noterà tutto E quindi si arrabberà Però faccio quello che posso Tesoro Spero che questo Piccolo tour Della mia camera Vi sia piaciuto Fatemi sapere Cosa ne pensate Soprattutto andate a seguire Curoteo Sul suo canale Che farà la reaction Non so ancora se su Twitch O su Youtube Ma andate a seguire anche lui E soprattutto chiedetegli Nuovi episodi Di recensione supermercati Mi raccomando Un saluto a tutti I saluti Ciao bro Buonanotte E buone botte Baci stellari Ma quanto sei bellina te Eh? Ma quanto sei bellina Ma quanto sei bellina Ma quanto sei bellina